... Qualche anno fa lavoravo in una grande e famosa università di ricerca e nel mio dipartimento, come in tutti i dipartimenti, c'era un responsabile della sicurezza che aveva il compito di testare una volta al mese il sistema di allarme che faceva un grandissimo rumore. Un giorno, come forse avrete intuito, c'era un incendio vero. E allora il responsabile della sicurezza girava per tutti gli uffici a partire dall'ultimo piano per essere sicuro che nessuno rimanesse dentro. Apre una porta e c'era un collega con le mani sulle orecchie lasciami lavorare, lasciami lavorare. Ecco, questo collega forse aveva preso il sacro fuoco per la scienza un po' troppo letteralmente. Però forse gli scienziati sono proprio le persone a cui più si prescrive questa frase famosa di Primo Levi di cui quest'anno ricorrono i cent'anni della nascita. Per cui l'amare il proprio lavoro costituisce l'approssimazione più concreta alla felicità sulla Terra. Gli scienziati, come abbiamo sentito, anche oggi molto intensamente hanno spesso una vera e propria vocazione per il proprio lavoro. Un lavoro che a volte è oscuro, un lavoro che non necessariamente va sui giornali o da grandi gratificazioni. E anche quando queste avvengono, vengono considerate spesso come una cosa normale che succede e poi passa. Sempre in quella grande università, il giorno che Christopher Pistadiris vinse il premio Nobel per l'economia, era lì a Mensee insieme a noi in fila e nessuno l'ha fatto neanche passare avanti. Un altro italiano, 500 anni fa, iniziava a riflettere, qualcosa di più di 500 anni fa perché quest'anno sono i 500 anni della sua nascita, iniziava a riflettere sul metodo scientifico. Ed è forse qualcosa di molto italiano questo. Un genio particolare che univa doti da inventore, doti di grande artista, ma anche iniziava a riflettere su cosa significasse la scienza. E quindi lui diceva con questa frase famosa che si può considerare una scienza umana solo quella che può essere dimostrata matematicamente. Ecco, oggi questa è una frase che può essere dibattuta aspramente in Dipartimenti di Scienze Sociali e io stesso tendo a non essere d'accordo con questa frase. Ma come si fa a dire non sei d'accordo con Leonardo? E questa però è una delle grandi lezioni che la scienza ci dà ogni giorno perché non si è d'accordo o non d'accordo con una persona, ma con un concetto, con un'idea. E proprio la possibilità di non essere d'accordo è quello che ci fa andare avanti. Allora forse qualcuno al posto mio adesso direbbe che la scienza è made in Italy perché 500 anni fa Leonardo pensava a questa frase. Ed è una frase che però io non dirò perché se proprio dovessimo trovare un luogo allora forse dovremmo andare a sentire quello che ci diceva il grande filosofo tedesco che vedeva l'Europa come un leone affamato, come un continente sempre teso da andare avanti. E in effetti l'Europa ha cambiato il mondo tante volte e a volte male e quando l'ha cambiato in bene è stato spesso grazie alla scienza. E allora è vero che il made in Italy è scienza, così come il made in France, il made in United Kingdom, il made in Germany, eccetera, eccetera. Però se ripensiamo allora a cosa successe 100 anni dopo Leonardo, abbiamo l'inizio della scienza moderna con Newton e Galilei che naturalmente era italiano. E allora siccome io e noi stiamo costruendo un nuovo centro di ricerca in Italia mi piace pensare a questo carattere e senza citare centinaia e migliaia di scienziati che lavorano e che hanno lavorato, mi piace citarne soltanto due, ricordarne due per ricordarli tutti insieme, Rita Levi-Montalcini e Fabiola Giannotti, famosissime scienziate che con i loro studi, come tutti gli scienziati, cambiano la vita di tutti noi ogni giorno. Allora io per lavoro ho avuto la fortuna di girare molto il mondo negli ultimi anni e gli italiani sono sempre riconosciuti come scienziati attenti, curiosi e io cercavo in questi incontri di capire se ci fosse qualcosa di tipico, qualche ingrediente segreto. E me lo disse il capo americano di una grandissima multinazionale, una delle aziende più grandi del mondo, che aveva appena aperto in Italia un nuovo stabilimento per produrre l'ultimo suo ritrovato, l'ultimo prodotto da distribuire sul mercato. E io ero curioso, gli ho chiesto, ma perché tra le decine di paesi in cui voi siete avete scelto di aprire questo stabilimento proprio in Italia e non in un altro paese? E lui mi rispose, perché vedi, questo è un nuovo prodotto e la sua produzione genererà problemi inaspettati e tra tutti gli operai gli italiani sono quelli che hanno la caratteristica di sapere risolvere problemi inaspettati. Ecco, allora fondare un nuovo centro di ricerca in Italia è forse una delle cose più tradizionali e tipiche che uno possa fare in questo paese. Con un'altra però lezione che ci viene proprio da queste due scienziate o dai tantissimi altri scienziati, perché ricordiamoci che ci sono pochi nomi noti, ma centinaia di migliaia di scienziati che fanno esattamente lo stesso lavoro e non è meno importante, perché ognuno di noi può vedere lontano perché sta sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto. Un bambino oggi ha più nozioni scientifiche di Leonardo perché è su quelle alte spalle. E allora quello che conta non è tanto il luogo in cui si sta, ma la circolarità che si contribuisce a generare, il numero di idee che si contribuiscono a far andare e tornare e quindi non tanto la nazionalità, ma dove si sta, perché gli scienziati alla fine vanno dove gli porta il cuore delle loro ricerche, dove hanno i loro interessi. E quindi con queste due sfide, quella di compiere un passo tradizionale, di una cosa che in Italia si fa da 500 anni, ovvero la sfida della scienza più moderna, è la seconda sfida di aumentare la circolarità di scambio di idee, di scienziati e di persone che stiamo costruendo Human Technopole a Milano. Adesso siamo pochi, siamo una ventina, ma stiamo crescendo e cresceremo molto. E ci siamo posti, e la nostra missione è forse la originaria missione che è venuta in mente al primo essere umano che ha potuto formulare un pensiero curioso, come fare a proteggere la nostra vita, come fare a migliorare la nostra vita. E mi hanno spiegato, perché io mi occupo della governance di questo centro che stiamo fondando, che la salute e l'invecchiamento degli esseri umani dipendono da fattori intrinseci, dalla genomica, e da fattori estrinseci, dal nostro stile di vita, cosa mangiamo, come ci comportiamo. Ma la combinazione di questi due aspetti varia da persona a persona. E allora la sfida è quella di arrivare per questa ragione a cure sempre più personalizzate e a prevenzioni sempre più personalizzate, per le quali sono necessarie un insieme di discipline molto diverse tra loro. Genomiche, clinica di base, diagnostica avanzata, neuroscienze, biologia molecolare, biologia strutturale, ingegneria, per l'analisi di grandi masse di dati, per l'elaborazione di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale necessari a processare le enormi quantità di dati che verranno generate dai sequenziamenti del genoma. E quindi questo è il progetto a cui stiamo lavorando, che quando sarà completo, tra 4, 5, 6 anni al massimo, comprenderà oltre 1.200 scienziati, 30.000 metri quadrati, grandi infrastrutture scientifiche di ultimissima generazione. Con l'obiettivo, il desiderio e la missione chiara di raggiungere 4 principali obiettivi. Il primo, naturalmente, è quello scientifico, è quello di avere una struttura che sia un hub, un alveare, un luogo dove si entra, si esce, c'è un continuo scambio con l'esterno. Per fare un esempio, noi avremo delle tecnologie di altissima, di ultimissima generazione, che verranno usate in parte dai nostri scienziati di Human Technopole e in parte dagli scienziati del resto della ricerca italiana che potranno accedervi, e non soltanto naturalmente italiana. Secondo, un hub che servirà a migliorare la qualità delle cure del sistema sanitario nazionale, innanzitutto italiano, ma anche con le ricerche che verranno fatte su come questo tipo di cure possono influenzare la sostenibilità nel tempo del sistema sanitario, anche contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici che sono forse uno dei cuori più importanti della civiltà del nostro continente. Terzo, essere in grado di dialogare costantemente con l'industria e con la parte economica che si occupa di scienze della vita, dei grandi settori industriali, dalla farmacia alle biotech, perché sappiamo che senza l'industrializzazione che l'industria privata riesce a generare, le scoperte non potranno arrivare nelle case di tutte le persone che ne hanno bisogno. Quarto, e infine, questa è un'immagine di Palazzo Italia, la sera mentre stiamo lavorando, perché un paio di questi piani già funzionano ed esistono, Human Technopole vuole essere anche un ulteriore ponte di rafforzamento tra la scienza e la democrazia, perché non dobbiamo mai dimenticare che scienza e democrazia non sono la stessa cosa, ma sono due fratelli gemelli, hanno lo stesso DNA. Pensate a quante nozioni scientifiche voi sapete, non perché le conoscete direttamente, ma perché vi fidate di chi ha fatto i conti, di chi ve l'ha raccontato. Sappiamo che la Terra gira attorno al Sole perché non perché l'abbiamo visto, perché ci fidiamo di chi ce l'ha spiegato. E ci fidiamo di chi ce l'ha spiegato perché si diventa scienziati con un processo trasparente, un processo aperto, non c'è un dittatore che decide chi fa lo scienziato. E questo è quello che vogliamo fare a Human Technopole, costruire una grande autorevolezza aperta in cui la scienza è utile per gli scienziati e per i non scienziati, per gli esperti in una materia scientifica e per gli esperti in un mestiere o in qualcos'altro. Perché non importa quanto studiamo o quanto tempo passiamo a studiare, ognuno di noi può essere esperto soltanto di un piccolo spicchio di sapere ed è per questo che abbiamo bisogno gli uni degli altri. E forse niente come la scienza è una grande, grande opera collettiva, un grande sforzo collettivo di persone appassionate del nostro, del proprio lavoro. E il lavoro degli scienziati e il lavoro che stiamo facendo noi in questo momento è in fondo la stessa cosa, un lavoro molto semplice, un lavoro uguale a quello che fanno tante altre persone, certo un po' speciale, un po' privilegiato. Io mi sento molto fortunato di lavorare a un progetto che costruisce un pezzetto di futuro, un po' come quel pellegrino che camminando incontrò tre persone che spaccavano grandi pietre al sole d'estate. La prima ha lanciato un grido di fatica, la seconda si lamentò al pellegrino lavoro tutta la giornata per mantenere la mia famiglia e il terzo si voltò e sorrise e disse sono contento perché sto costruendo la mia cattedrale. Ecco, noi non stiamo in un deserto a costruire una cattedrale, al contrario, siamo in un posto molto denso, la Lombardia, uno spicchio d'Europa denso di ricerca, di grandi industrie, di grandi università e di grande storia ed è il motivo per il quale in questo contorno, che poi in Lombardia siamo anche qui, siamo convinti di poter, siamo ottimisti di poterci riuscire. È un'impresa sicuramente molto intensa, molto faticosa ma che ci rende molto felici. Grazie tanti. Applausi